Buongiorno a tutti, sono Colombo Simone, il presidente della famiglia Sinaghina e quest'anno col gruppo Carnevale abbiamo deciso di realizzare la gebbia che vedete alle mie spalle che rappresenta in modo satirico un po' la situazione che ogni mattina si può vedere davanti alle farmacie con le lunghissime code di persone che vanno a fare i tamponi. Infatti l'abbiamo soprannominata la farmacista Arricchita, questo bel tampone molecolare abbronzata perché è appena tornata dalle vacanze e chiaramente questa gebbia verrà solo esposta in piazza Sacco Nago non verrà bruciata visto le norme in vigore per gli eventi e con questa gebbia portiamo il nostro augurio e la nostra speranza che nel 2022 questa pandemia possa terminare e che dall'anno prossimo si possa ricominciare a ritornare a fare tutti gli eventi che caratterizzano sia della sinagina che la quotidianità di ognuno di noi. Con questo vi auguro una buona gebbia e con la speranza appunto che l'anno prossimo possiamo tornare tutti insieme a mangiare un bel piatto di risotto con la Luganica. Ciao!